Ho ucciso la mia gente, non è stato l'incidente All'è? Concentino! Concentino! Se mi dimentico di lui bevete vino signor A questo memorabile, storico, eccezionale, straordinario Stra-estravagante! Concentino dal balconcino eccezionale Gli occhi sono volagini di luce appaginante e buio Dietro il buio, come dietro la luce, si appostano cecchini pronti allo sparo L'inferiscendiamo, l'inferiscendiamo, l'inferiscendiamo I cieli risaliamo, i cieli risaliamo, i cieli risaliamo Ma a terra tutti stiamo, a terra tutti stiamo, a terra tutti stiamo Potremmo cadere, certo, ma rischiamo insieme Che forse è questo, vivere la vita Arrenditi! Sennò veniamo tutti! Nonostante il Zetter non parlare della gente Torino con te scrivi vedo vissuto qui in fondo Torino con i tuoi fiumi e le splendide del mondo Torino una città, in un paese stupendo Torino occhio aperto, io stasera me ne prendo E prenderete un 2011, molti di voi in realtà Un 2011, eravamo a quattro fiumi Prendimi, globalizzami, fammi sentire il tuo discount Prendimi a franchising, cospargimi di coupon Identifica cos'è che innesca le mie crisi Gli scopi di rabbia e i crolli emotivi Sono molto più terribili per me che per te Si allengono è perché uno dei miei sensi O più di uno è andato in sovraccarico O perché sono stato spinto ben oltre i limiti Delle mie capacità sensoriali Noi ragazzi autistici abbiamo Sì in realtà essere autistici non vuol dire Semplicemente avere determinate difficoltà E avere determinati punti di forza Ma non vuol dire assolutamente cosiddetto essere scemi Assolutamente no Il fine ultimo dell'essere umano è fondersi nella natura Fuori dagli schemi posti dal Vaticano Filosofo degli eroici furori lo ricorderanno Bruno Giordano Morto sul rogo a Campo dei Fiori Filosofo di Fiori E il giro è un po' di uno io E il giro è un mio po' di uno io e io sento i passi come gli certetemi e dei luoghi di un cane di un grande essere un uomo un uomo più un altro uomo un uomo più un uomo più da due mondi noi siamo qui, intanto sono l'avvocato Risso e l'avvocato Giacometti che si occupano dei ragazzi e della vostra meravigliosa iniziativa per crescere con lei un figlio nostro una mano concreta guardate che c'è tutto c'è un internazionalismo che ancora di cui non si sa nulla ma c'è tanta gente che va ad aiutare questi popoli e per vedere quell'esperimento di esercito formato da donne e uomini che combattono che combattono per ricacciare questo bruttissimo nemico è indulgente coi potenti se sono delinquenti ma parlano con lui sono in bicicletta e vado in discesa senza mani apro le braccia e il vento mi entra nelle mutande e quanto sono bella che belle tette che belle stelle il contesto ci sorride noi dovremmo insomma amareci dal trenino un sogno al sogno 620 620 ce l'abbiamo ce l'abbiamo chi l'ha vinto il lufacco lasciai il tribunale con uno schiacciante senso di precarietà la libertà spesso è un accessorio di lusso e non un diritto grazie